benvenuto benvenuti possiamo iniziare realmente a fare il colore in questa puntata invece ti voglio affiancare nella cottura e successivamente nell'inoculo quindi la cottura a vapore è un processo fondamentale ho inserito lo starter sulle foglie e sicuramente l'odore il profumo che emana adesso lo vedremo lo vedremo da vicino è una mattonella questo è molto importante questo è un aspetto estremamente importante al di sopra dei 35 gradi fino ai 40 il fungo tende a produrre più animale le domande che potete avere potete inserirle che riceverete risposta bene ciao